Bravi ragazzi! Vai, vai, vai! Non l'aspetto la maglia rosa? Eccone uno a sinistra. Vai con lui. Eccone la maglia rosa Paolo. Vai stai qua, stai qua, aspetta una letta. Vai con lui, vai! Eccone la maglia rosa Paolo. Eccone la maglia rosa Paolo. grazie a tutti 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 grazie a tutti